Rieccoci di nuovo nella seconda gara di Belial e Marivè, allora siamo con le Vegas, un'altra macchina che non mi ricordo il nome, allora andiamo vai! No, questa volta vinco io, questa volta devo vincere io, no, devo vincere, devo vincere, non vincerai mai, no, ho spazzuto, chi l'ha visto? Questo vuole non mi ha caricato niente, ok, no, vai, che cacchia, allora il veicolo è danneggiato! Già, comunque! Ma l'ho proprio fatto, l'avete già danneggiato, dite la verità! Devi prendersi un veicolo che, ah, la vedi senza, tipo, il camion dell'immondizia, prendi! No, no, ma anche no! Non è valido, questo è un sabotaggio, è un sabotaggio! Anche Marivè lo dice, anche Marivè lo dice, anche Marivè lo dice, anche Marivè lo dice, ah, mi ha affascito! E l'ho anche ucciso, perfetto! Andavo troppo forte! Ti ho schiacciato io con il caso di Marivè, per dire, l'ho tamponata e... Vabbè, tanto permetto questo video di YouTube, leggete la chat, svolta di Marivè, come... Cioè, spero che l'hanno letta, vabbè, alla prossima scenetta, al prossimo episodio, a dopo, ciao! Ce la farai a finirne uno, non ti preoccupare! Io le faccio adorare le macchine, tu sei stata assoluta della mia Vegas! Ehi, guarda, è un po' di più! Ehi, guarda, è un po' di più! Ehi, guarda, è un po' di più!